Questa domenica 2 di ottobre, la prima domenica di ottobre, come tutte, di consuetudine di tutti gli anni, facciamo la sfilata storica. La sfilata storica è che ci saranno circa 400 persone in costume che arrivano da Venezia ad Aosto. Ci saranno dalla Lombardia, dal Piemonte, dall'Alguria e anche dall'Emilia Romagna. Un bellissimo spettacolo di costumi veramente meravigliosi perché portano, con il loro costume, portano la tradizione del loro paese, della loro città. È una tradizione che abbiamo voluto come Comitato Manifestazione da 14 anni. Piano piano dalle prime edizioni che c'era poca gente, oggi come oggi viene sviluppato, con, come dicevo, l'ultima, con 400 persone. Viene fatto al pomeriggio, alle 14.30 ci sarà il raduno di tutti quanti in Piazza Paietta, dopodiché dalla Piazza Paietta alle 15.30 si partirà per il corso via Foa, via Gioberti e si arriverà in Piazza Cavour dove saranno presentati tutti quanti, poi ci saranno le autorità presenti che daranno il saluto della città di Vercelli. Io devo dire anche che sabato, sono contento che una trentina di queste persone saranno presenti già sabato pomeriggio perché vogliono vedere la città di Vercelli, le bellezze di Vercelli. Saranno accompagnate da una guida che possa spiegare tutto quanto la storia di Vercelli. Si fermeranno a dormire e poi il mattino ricominceranno il giro. Mi auguro che la gente di Vercellesi siano presenti a questa manifestazione è veramente bella. Al termine sarà distribuito dal Comitato Manifestazione la panissa a tutti quanti. Grazie della vostra presenza, spero numerosa.